Si può dire che dopo sei anni di attesa l'accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree di Marche e Umbria colpite dalla crisi dell'ex Antonio Merloni diventa una realtà perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi con un plafond disponibile al momento di 26 milioni di euro tra le due regioni. Dal primo al 30 giugno le aziende interessate di tutte le dimensioni, inclusi le grandi, sia manifatturiere sia dei servizi, compresse quelle turistiche, possono presentare la domanda di agevolazione a Invitalia. Complessivamente i comuni coinvolti sono 73, 56 marchigiani e 17 in Umbria. Nel dettaglio l'avviso pubblicato promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni dell'area coinvolta dalla crisi finalizzata al rafforzamento e alla riqualificazione del tessuto produttivo locale anche tramite l'attrazione di nuovi investimenti nonché alla ricollocazione dei lavoratori della società in amministrazione straordinaria. Le iniziative devono prevedere la realizzazione di programmi di investimento produttivo e o programmi di investimento per la tutela ambientale eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione, comportare un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Debbono altresì prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1.500.000 euro. I 26 milioni già a disposizione possono essere incrementati con ulteriori nove. I soggetti beneficiari si impegnano a procedere prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento a concludere entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento il programma occupazionale proposto ad assumere entro il termine suddetto i lavoratori appartenenti al bacino di riferimento in numero non inferiore a quello eventualmente indicato nella domanda a mantenere infine i livelli occupazionali indicati dal programma per almeno un biennio dalla data del suo completamento. L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base di criteri e punteggi. Per fare un esempio, con una nuova occupazione generata da 1 a 5 unità, i punti attribuiti sono 4, con un crescendo fino a 100 punti nel caso si assumano più di 89 lavoratori.